Si è fatta attendere ma alla fine la neve è arrivata anche in Valle Ufite e nella media Valle del Calore. Non solo dunque l'Alta Irpinia o i comuni più alti come Frigento e Trevico, dove da venerdì non sono mancate le nevicate, stamattina anche i comuni più bassi si sono risvegliati ricoperti di neve. Neve che ha iniziato a cadere copiosamente intorno alle 23 di questa notte, dopo weekend in cui era sceso solo qualche fiocco. Scuole chiuse dunque nella maggior parte dei comuni, il sindaco di Ariano Irpino Franza, già intorno alla mezzanotte, quando la neve al suolo era già di qualche centimetro, ha deciso di tenere gli istituti scolastici chiusi per la giornata di oggi. Provvedimento poi adottato anche dai suoi colleghi dei paesi limitrofi, stop alle elezioni dunque a Frigento, Sturno, Gesualdo, Grotta Minarda, Fontana Rosa, Mirabella e nei comuni della Baronia. La macchina organizzativa dei vari comuni, così come quella della prefettura di Avellino, ha comunque funzionato alla perfezione, non si sono infatti registrati problemi alla viabilità, grazie al lavoro dei mezzi spargi sale e degli spazzaneve. E complice anche l'innalzamento delle temperature, il manto nevoso ha iniziato a sciogliersi già in mattinata, ma comunque è stata presa d'assalto la villa comunale del Tricolle, tanti bambini ma anche gli adulti che hanno deciso di godersi una mattinata tra la neve. Ieri invece sono stati limiti di Frigento ad essere interessati da un via vai di visitatori. Nel comune Ufitano, che tocca 911 metri sul livello del mare, infatti è tanta la neve caduta negli ultimi tre giorni.